buongiorno a tutti faccio un video spero brevissimo su umberto veronesi perché casualmente mi è capitato di vedere la pubblicità per la richiesta di finanziamenti di fondi da parte della sua associazione associazione la fondazione umberto veronesi il credo abbastanza famoso oncologo è mancato ormai sette otto anni fa ed è diventato abbastanza famoso quando fu ministro della salute all'inizio del 2000 e allora accidentemente sono andato a vedermi era un personaggio che mi sembrava interessante sono andato a vedermi la pagina wikipedia e ho visto alcune cose interessanti o comunque che mi hanno incuriosito anche abbastanza positivamente come dichiarazioni prima di tutto perché parliamo di un oncologo di un medico di una persona che ha una formazione accademica scientifica e che ha lavorato poi sul campo quindi non un teorico ma una persona immersa nel che ha portato le sue conoscenze medico scientifiche nella realtà di tutti i giorni per parecchi anni visto che è morto e mancato abbastanza abbastanza anziano quali sono queste affermazioni probabilmente fatte anche su una base politica avendo fatto un po di politica che ho notato che sono interessanti allora uno dalla più banale veronesi era un medico laico favorevole alla fine vita all'eutanasia ma che nel contempo diceva che se il malato viene curato in maniera corretta a livello medico e a livello umano con l'attenzione dovuta eccetera è difficile che il malato sarà quello che chiederà la fine vita ma che accetterà il percorso di andare verso la sua fine con le tempistiche che deve avere che è quello che penso anch'io cioè credo che l'eutanasia sia un meccanismo di fuga dalla sofferenza eccessiva quando si vede una speranza ma al tempo stesso quando la sofferenza è eccessiva se no credo che appunto la maggioranza della gente cerchi di voler vivere la vita per tutto il suo percorso anche con momenti di disperazione di sofferenza nel momento in cui possono essere gestiti in maniera corretta e comunque lui era favorevole in certe situazioni a dare la libertà del malato di scegliere e questa è una affermazione intelligente condivisibile ma forse in questa italietta non sempre così sottolineata altre due cose che ha dichiarato sono che l'omosessualità è la forma di a parte che lui era favorevole ovviamente alla matrimonio tra persone dello stesso sesso quindi nessuna assolutamente nessuna forma di omofobia anzi di dichiara che l'amore omosessuale è quello più puro perché non è finalizzato alla procreazione interessante affermazione che io non vado a commentare con ogni idea e ultima è sempre interessante è una sua dichiarazione sulla superiorità etica e intellettiva della donna sull'uomo per cui secondo lui la donna è più è più focalizzata sugli obiettivi è meno aggressiva è più civilmente integrata e quindi ha più a cuore ed è più maggiormente la portatrice di un miglioramento della civiltà perché è più inserita nei valori civili e li fa più suoi queste tre affermazioni le potete trovare su wikipedia con l'indirizzamento poi a dove si è stata fatta in che articolo in che occasione io volevo solo segnalarle perché sono interessanti sono fatte da un personaggio sicuramente di valore intellettuale e anche umano ma ovviamente soprattutto intellettuale vi fa piacere quindi che la sua fondazione continua a esistere spero porti avanti questi valori che sono importanti come sono importanti anche la ricerca scientifica è positivo che un uomo come lui sia diventato un ministro della repubblica anche se non credo perché sia stato votato ma perché sia stato un ministro tecnico sarebbe molto bello se questo paese avesse una buona parte di personaggi di questo genere che fanno che sono nell'esecutivo o nel legislativo perché porterebbero la loro profondità la loro esperienza banalmente chi lavora tutto il giorno viene assorbito dal suo lavoro e questo valeva anche per veronesi ma ci sono dei lavori che ti permettono di più di ricercare di approfondire di capire quindi ti portano a essere migliori secondo me legislatori e anche esecutori di un governo quindi nell'esecutivo veronesi era uno di questi vedendo a volte la qualità dei politici italiani della loro delle dichiarazioni abbastanza di basso livello tipo da barra ea per cui viene da chiedersi quanto sia veramente che loro dichiarano questo perché ci credono semplicemente perché sanno che questo che devono dire per farsi votare fa un po perdere qualche speranza nel miglioramento civile e social di questo paese quindi un personaggio come veronesi personaggi come veronesi che poi avevano anche una umanità un equilibrio da come lo ricordo io senza arroganze o o altre difetti un po caratteriali che ho visto in alcuni politici un po più semplici che te lo facevano benvolere ma al di là di questo è il valore di esperienza di cultura e anche l'umanità in parte che lo rendono hanno sicuramente reso la sua presenza in politica nel poco che puoi fare perché concludo il politico comunque non può mai fare tutto quello che si vuole deve poi confrontarsi però se già intanto partiamo con le idee giuste quindi cerchiamo di migliorare la qualità della vita di tutti fare in modo che ci sia una equa distribuzione delle risorse perché una società funzionerebbe meglio banalmente per tutti non solo per chi riceve qualcosa in più ecco guarda vi lascio questa riflessione su umberto veronesi che sperando che ce ne siano altri in politica in nell'esecutivo nel legislativo e anche nella vita di tutti i giorni in questo paese grazie per avermi ascoltato al prossimo video